Benvenuta nel tuo esilio. Tua madre mi ha detto che devi studiare almeno sei ore al giorno. Pronto? Tesoro, mi raccomando, studia, lo sai papà quanto ci tiene. Amo, ma tu sei sicura di voler fare la pianista da grande? Sì. Mi scusi, può abbassare un po', per favore? Oh, stanotte Vince ci ha dato dentro di nuovo con la musica, eh? A te lui piace. È un animale da palcoscenico. E sai suonare soltanto musica classica o anche musica musica? La musica classica è la musica. A me il pianoforte piace, mi protegge, mi perdo e la musica ci scompai. Perché non canti qualcosa di tuo? Lei? Fa schifo. La canzone me la puoi dire? Devi trovare la tua voce. Io non so se ho qualcosa da dire. Devi cantare, Anita. Sei un'artista che ti piaccia o meno. A te della mia voce e di quello che scrivo non te ne frega un cazzo, è vero? Tu vuoi essere un'artista? Allora ti devi buttare come abbiamo fatto tutti. Perché se non ti butti, se non provi strizza ogni volta che ti affaccio e guardi qui all'abisso, tu non sei un'artista, sei soltanto una che canta bene. Troppo lamentare, dirsi non ci riesco più. Se scappassi da un mondo che mi guarda dire a tutta voce come si bella.